Siamo con mister Lucarelli, a microfoni spenti tra virgolette abbiamo detto mister che era una partita prima dei insidie, il campo lo ha confermato. Sì assolutamente sì, io l'ho detto già pure alla vigilia, non è che faccio il mago, so benissimo che il Capistrello è una squadra che ce la mette sempre tutta, l'ha già dimostrato, ma anche in altri campionati. Oggi abbiamo avuto un piccolo down secondo me dal punto di vista del gioco, non siamo stati così fluidi, però abbiamo avuto molta concentrazione e applicazione nel capire che il risultato oggi era fondamentale. Quindi è una bella partita dove la concentrazione è stata fondamentale, quindi per me è importantissimo oggi. Però mister, con l'Avezzano avete dimostrato tecnicamente di avere tanta qualità, oggi secondo me la parte che va evidenziata è la voglia di combattere e di lottare, perché spesso e volentieri si gioca di fioretto ma quando bisogna tirar fuori la sciabola il Chiede ha dimostrato di saperlo fare. Sì perché non bisogna essere superficiali, quindi se non si può arrivare subito a chiudere una partita bisogna essere concentrati e determinati per non lasciarsela sfuggire. E oggi poteva starci, perché il calcio le insegna che è 1-0 in casa, con la squadra che prova a fare gol e si butta in avanti, con lanci lunghi, comunque anche con delle individualità, anche perché anche il loro portiere è stato il migliore in campo, credo, Chico Fanti. Ma Chico Fanti è fortissimo, lo si conosce, non è che è una sorpresa, io gliel'avevo detto che per fargli gol gli devi tirare dieci volte, non importa. Mister, la catena di sinistra è molto ma molto più forte di quella di destra, ma questa è un'indicazione tattica che lei costruisce in base alla forza dell'avversario o perché avendo Pietrantonio non può fare altrimenti? No, diciamo che la catena di destra è una catena dove c'è un ragazzo che si sta comunque applicando in un ruolo non proprio suo, lo stiamo costruendo un po' quest'anno come quinto, come esterno e sta facendo bene in tutte le fasi. È chiaro che Manfredo Pietrantonio è più appariscente perché ha un piede diverso, una gamba diversa, una personalità per il momento ancora diversa e trova delle giocate che dall'altra parte casomai Puglielli in questo momento non trova, ma le può trovare tra un po' perché anche Romano è dotato di una grande tecnica. Mister, oggi particolarmente, ma anche nelle altre gare precedenti, i calci piazzati sono fondamentali per il Chiedi e in cronaca diretta ho detto evidentemente, mister Lucarelli, durante la settimana ci lavora tantissimo. No, ci abbiamo lavorato, abbiamo detto che una piccola percentuale del miglioramento arriva anche da queste soluzioni di palla inattiva che possono essere sfruttate e quindi i ragazzi poi l'hanno notato subito perché si può crescere come squadra nel comprensione. Non è complesso nella fase di gioco ma si deve crescere anche nell'applicazione, nelle palle inattive contro e quello a favore. Mister, in certi momenti della gara Galli serve lì davanti, in altri momenti quando forse gli avversari sono stranchi ma ti arrodia da quegli strappi a tagliare le gambe in modo definitivo. Eh sì, ti taglia un po' le gambe perché lui quando sta nella partita sta scivolando in un campo così grande, bello, in erba che comunque oggi faceva particolarmente caldo, è chiaro che può fare ancora la differenza ma è da sottolineare anche il passaggio, l'assist di Anas e Gramella che l'ha messo praticamente in porta e quindi è un'altra soluzione in più che noi possiamo avere. Mister, poi la lascio andare, glielo prometto, i risultati di oggi cosa dicono? Non solo quello dell'Angelini ma anche sugli altri due campi che insomma l'Aquila non molla, cambio di Mister che non ha lasciato nessun contraccolpo, dall'altra parte il Delfino a fare i spenti che si fa i fatti suoi devo dire. No, il risultato di oggi dice che siamo primi da soli e quindi... E questo è giusto rimarcarlo. Siamo primi da soli nel senso che adesso dipende da noi e quindi noi dobbiamo adesso aumentare ancora di più la voglia di migliorare, di non mollare niente, andare su ogni partita a lottare perché noi ce la vogliamo conquistare sul campo questa promozione. Dice questo, che siamo in un momento primi, se siamo bravi ci rimaniamo.